Lei è il grande accusatore, questa mattina dovrà ricostruire tutta l'intera vicenda di Banca Etruria? No, io non sono l'accusatore di nessuno. Però dovrà ricostruire le vicende di Banca Etruria al 2010? Sì, sì, ma sono già tutte scritte. È stato il giorno del grande accusatore della malagessio di Banca Etruria, Giuseppe Santoni, il liquidatore dell'Istituto di Credito Aretino. È stato infatti il primo testimone chiave dell'accusa nel maxiprocesso sul crack di Banca Etruria che dopo una lunghissima udienza preliminare è entrato nel vivo dell'istruttoria sul banco degli imputati 25 nomi eccellenti che hanno avuto un ruolo all'interno degli ultimi CDA accusati a vario titolo di banca rotta semplice e fraudolenta. Il professore universitario ha ripercorso, incalzato dalle domande dei PM Andrea Claudiani ed Angela Masiello, la storia della banca. È stata infatti proprio la relazione di insolvenza di Santoni, la chiave di lettura utilizzata dall'accusa per interpretare le grandi sofferenze dell'Istituto. Sono operazioni di cui ho una conoscenza cartacea, documentale, quindi non ho una conoscenza diretta, ci sono altri testi che sono... Però emergono delle anomalie, un conflitto di... Ma le anomalie sono importanti in quanto fanno desumere degli inadempimenti più generali che sono quelli di cui ho parlato. E come siamo arrivati al crack di Banca Etruria? Guardi, ne ho parlato per tutta la mattina. Una mala cessione, ha detto in avanti. Non voglio ripetere quello che ho già detto. La situazione di spaventosa gravità sarebbe già emersa, secondo Santoni, nel novembre 2014, quando gli ispettori di Banca Italia rilevarono un numero anomalo di posizioni creditizie erogate in conflitto di interessi, 198 posizioni di filo della banca affidate ad esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione o sindaci, per un totale di 185 milioni di credito erogato. Di questi, 40 erano in caio, 11 a sofferenze ed altri 18 furono azzerati. Al settembre 2014, in pratica, 80 milioni erano diventati una posizione anomala. Beh, la sensazione è che qualche prestito fatto a consiglieri, dirigenti e vari parenti sia più o meno un prelievo dalla cassaforte della banca più che un prestito. Tant'è che in molti casi non è stato restituito praticamente nulla. Nel novembre 2015, ancora una svalutazione, il patrimonio netto arrivò ad un deficit di 300 milioni di euro. Parlando col senno di poi, è mancata la vicinanza in itinere, perché qui si parla di operazioni fatte nel corso di anni. E allora la domanda che viene spontanea, non sotto strettamente il punto di vista processuale, ma sotto il punto di vista generale di tutela del risparmio, è dove era l'organismo di vigilanza bancaria. La prossima udienza è stata fissata per il 27 settembre, sarà il turno del controesame.